Ebbene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Call of Duty World War 2 Terzo episodio della campagna di questo grandissimo gioco dell'Activision Allora ragazzi, lo scorso video abbiamo fatto la seconda missione, Operazione Cobra Adesso possiamo andare alla terza missione Però prima di iniziare volevo salutare e ringraziare il mio amico Matteo Perché nello scorso episodio ha scritto nei commenti che a lui piacciono i miei video Quindi lo ringrazio veramente, grazie Matteo Allora signori, andiamo avanti Vi ricordo, se vi piace questo video lasciate almeno 5 like E iscrivetevi e attivate la campanella Allora ragazzi, La Roccaforte, 26 luglio 1944 26 luglio, siamo asserragliati in una fattoria vicino a Marigny Chiudo gli occhi per pensare a Esa, ma rifaccio quel sogno Ok Solito sogno Più o meno Sì, continuo a tormentarmi Sto bene ora, riposo un po' No, Pearson deve capire che sono pronto Non mi interessa cosa dice, non hai niente da dimostrare Già, ma sono stanco di lui A casa mia, quando c'è un problema, lo si prende di petto È il solo modo di farsi rispettare Ti capisco Devi credermi Un uomo deve affrontare le sue battaglie Ma il rispetto non serve a nulla se ti fai ammazzare Per fortuna c'eri tu a coprirmi E poi C'è il vecchio San Michele che veglia su di noi Quindi non c'è niente di cui preoccuparsi Non sapevo che credeste in quella roba Non rifiuto nessun tipo di aiuto Vuoi parlarmi del sogno o no? I lupi ci uccidevano al bestiame Io e mio fratello Paul gli davamo la caccia quando ci hanno accerchiato Prego, prego il grilletto Ci sto provando Ok Tutto a posto? Mi dispiace Paul Ascoltami ragazzo È naturale avere paura Dobbiamo tornare a casa, fratellino Da quel giorno Mi ripromesi di non deludere mai più Paul Ora non si tratta solo di convincere lui Ma anche Pearson Allo riparo! Forza! Turner guiderà il grosso delle truppe nella piazza Noi dovremmo dare fuoco di copertura da quella chiesa Domande? Bene! Io ne ho una! Risparmiatela e avrai una stella d'oro Andiamo! Sono il suo preferito Calma, attaccare la piazza Di Marini Mi serve copertura a sinistra Tutti gli altri a destra Prendiamo quella casa Avanziamo! Di copro! Dammi un fumogeno di segnalazione La Wow Ma che è la donza? La donza è la donza Ma non è la donza Non è la donza Ma non è la donza Non è la donza Mannaggia O qua Ora è finito il gol aspetta no aspetta vai lasciata nooo ok oh si usa una macchina è morta vado mannaggis vado con la pistola va mi faccio schifo con la pistola mi faccio cagare con la pistola non mi può dare un'arma decente cagare cagare oh merda ok mannaggis aiello grazie beccatemi sta granata beccatemi sta granata eh solo colpi dell'ufficile dai picchini però facciamo un'arma beccato un'arma 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 nooo mannaggia ma 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 mo ma me sp ista guadagnino st ma esempio beccato . 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 ok eh raga scusate ho un po' scorsa oh la mia P40 dove è? ho ancora la chiusa proprio lì saranno fuggiti sentendoci arrivare ci sono delle scorte, riforniamoci prima di salire sul campanino caricamelo in polizia oh dov'è? spiame questa canata? oddio cura, 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 cura via, via, via lancia fiamme come lancia fiamme? state passi e ci sto diavolo vuole lancia fiamme questo è un po' un po' è un po' un po' vabbè la rosa vai di prepotenza, di prepotenza, di prepotenza andiamo addosso addosso via oh calmò bene libero la chiesa è nostra Elias da uno sguardo a quei cannoni vado alla porta i crocchi abbattono i nostri caccia andate a distruggere quella si sergente Daniel Stiles noi daremo supporto in cima al campanile per fortuna ci sarai tu la sopra nessuna pressione tranquillo ti copro io ti conviene ok dove? ah qua no alla scala spero che nessuno soffra di vertigini cambierebbe qualcosa ok forza sali qua su occhi su Ziusman pronti che schifo ok allora dobbiamo proteggere occhio guarda la no non è morto grazie oh oh grazie c'è un'altra contraerea del cortile non è presidiata tienila d'occhio sono arrivata alla contraerea vedè non ci da nessuno che è questo? lancia fiamme eccolo lo lancia fiamme oh ma qual'era già? libero se l'hanno fatta semi cingolati nella piazza torno in trappola fuoco sulle torrette ok bello è morto è morto si avvicinano ai cannoni agli aerei ok crocchi sui tetti togliamo di mezzo quel di più in alto non male non si rialzerà più buono non devo venire ricotta ragazzi ci sono grazie c'è il cingolato dietro di loro bom fatti no dietro Concentrati Che cazzo è stato Non lo so Turner? Come Turner? Turner No è venuto GG G per Turner Un ultimo cannone Via Via Oh mio dio Gli esploso la testa a quello No la campana Oh La campana Via da lì Presto Via 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 Scappa dalla chiesa Ok Muoviti muoviti Qui Si staccano Oddio che botta Clicca X Ok Oh mio dio 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 Ho forse delle ali soldati No sergente Infatti non sono il tuo cazzo di angelo custode Fanculo Ho perso due ottimi soldati Ora Diamoci una mossa E distruggiamo quei cannoni Forza Si avvicinano da sud Non vedo giusman Merda Erano insieme Prima che crollasse tutto Attacco il nemico Ora ci conviene restare in posizione I crocchi non devono salire qui Ho ancora delle granate se ti servono Stando uscendo Eccoli Mi farebbero com- Mantenere la posizione Forza Diamo egli copertura Fuori da cao Fuori da cao Il mio dio I segnali Vengono su tale scale Grazie No quanti ne sono Quanti I crocchi assalteranno la nostra posizione Vieni lì a fada qui Oddio Ma quanti ne sono Non ho munizioni Gra- Cos'è? Cos'è? Non è uno garante Però modifica- Oddio Cos'è granata da fugile? Cos'è? Ah! Rilancia granate Dov'è? 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 Veloce! Mamma mia che schifo Parare così Come faccio? Come faccio? Dammi sto lanciafiamme Dammi sto lanciafiamme Dammi sto lanciafiamme Nooo Ve lo sparare con il lanciafiamme Fa' io ho fatto double kill Beh io ho fatto double kill Eh si Devo usare il cecchino Va bene Cos'è questo? È il pompa Dal pompa mi salverà Bomb Mo si Adesso si Mori tu Mo si Aronna mi Aronna mi Aronna mi Puigann Non è tutto questo E spingeteli fino all'arrivo dei P-47 Oh tu, 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 tu Santenere la posizione Ecco il P-47 Senti il P-47 Oddio, oddio Ma chi è? Ma chi è? Eh, più 40-6 Oh, zio Sono vivo Ottimo lavoro Avete dato il massimo I bastardi sono scappati È stata un'azione ben eseguita Non se la sono cavata tanto male, vero, sergente? Forse ti sbagliavi sul loro conto Finalmente tirate fuori le palle Ma adesso si fa sul serio Scopriremo di che pasta siete fatti Anche se gli servissimo la testa di Hitler Si lamenterebbe Combattiamo come oggi e la guerra sarà finita in un attimo Ma per farlo dovremo superare noi stessi Ci sono Abbiamo conquistato Marigny Le truppe tedesche se la stanno dando a gambe Ma adesso siamo nel mirino di Pearson più di prima Non so davvero cos'altro pretendo da noi Ok Ragazzi abbiamo finito la missione La terza missione La Roccaforte di Call of Duty World War 2 Ci vediamo Domani forse O venerdì non lo so Con la quarta missione di questo gioco Vero S.O.E Allora ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Come sempre Like, iscrizione E campanella per non perdervi i prossimi video Noi ci vediamo Domani o dopo domani Vero ragazzi Al prossimo episodio Ciao